Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Avrete notato che di recente sto alternando contenuti pratici a riflessioni personali. E oggi voglio condividere con voi un pensiero che ho avuto, dato che sono stato costretto a stare a casa per un po'. E devo dire che sono rimasto abbastanza scioccato dal fatto che in giro se ne parli veramente poco, poi però ho capito il perché. Il tema di oggi è l'automiglioramento. Una delle sensazioni più soddisfacenti che possiamo provare nel corso della nostra esistenza è quella di sentire che stiamo migliorando nelle attività che ci interessano. Se vai in palestra, cosa che mi riguardo molto bene dal fare, non c'è cosa più bella di vedere il nostro corpo settimana dopo settimana che migliora e si perfeziona. E questo concetto è applicabile in ogni campo, quindi musica, arte, economia, comunicazione. Quindi quando riusciamo a raggiungere piccoli obiettivi con il nostro sacrificio, ci sentiamo automaticamente persone migliori ai nostri occhi e di conseguenza anche agli occhi degli altri. C'è una cosa però che rende questo comportamento, questa voglia di migliorare, assolutamente distruttiva. Ed è il succo del ragionamento che voglio condividere con voi quest'oggi. Dal momento che l'automiglioramento ha dato origine a una serie infinita di business e di attività lucrative, come iniziamo ad approcciare all'argomento, veniamo bombardati dall'informazione, dall'ideologia, che il miglioramento, il self-improvement, sia la soluzione a tutti i problemi. Hai difficoltà nelle relazioni? C'è il self-improvement. Hai difficoltà economiche? C'è il self-improvement. Hai difficoltà nel lavoro? C'è quel ragazzo simpatico che fa video sul lavoro, però c'è anche il self-improvement. Cioè si è diffusa l'idea che la risposta a tutto sia il self-improvement e che se non curi in maniera maniacale il miglioramento di te stesso, non hai nessuna possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi. Perché addirittura con il miglioramento personale potrai arrivare a raggiungere livelli talmente alti della tua persona da essere ammirato da tutti, avere successo in tutto e non avere più problemi. Questo è il messaggio che mi è stato trasmesso dai social e dagli stessi contenuti di miglioramento personale e io ritengo che sia un messaggio assolutamente tossico. All'inizio non capivo perché nessuno ne parlasse, poi logicamente riflettendoci un secondo ho capito che è perché ci sono enormi interessi economici. Perché logicamente ci sono centinaia di libri che devono essere venduti, ci sono migliaia di profili che devono essere eseguiti perché devi sapere che se non adotti la morning routine di Elon Musk o non leggi 15 libri al mese consigliati da Bill Gates, non hai proprio nessuna possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi. Ecco, questo è precisamente il messaggio che in questo momento ci viene trasmesso. Allora facciamo così. Prendiamoci un secondo, veramente un secondo, per riflettere sui profili di successo o comunque i profili che comunemente vengono definiti di successo e cercare di capire perché loro sono arrivati a raggiungere i loro obiettivi. Per esempio Zuckerberg, Cristiano Ronaldo e Lebron James. Cosa hanno in comune? La dieta? La morning routine? No ragazzi, semplicemente loro sono i migliori in quello che fanno. Sono diventati bravissimi in qualcosa di specifico. E considerare il self-improvement, il miglioramento personale come viene considerato è come dire che Cristiano Ronaldo sia Cristiano Ronaldo per chi adotta la dieta di Cristiano Ronaldo. Vi faccio un esempio pratico che ho vissuto sulla mia pelle. È pensiero logico, pensiero comune, credere che per migliorare nella comunicazione e nel business bisogna comunicare e fare business. Bene, ho passato un intero periodo della mia vita, precisamente tra primo anno di magistrale e secondo anno di magistrale a bombardarmi di contenuti di crescita personale e di libri sulla comunicazione e sul come creare progetti. Ray Dalio, Carnage, Tony Robbins, li ho letti veramente quasi tutti. Sembravo un alieno che provava a capire come funzionasse la razza umana. Veramente era una cosa assurda. Poi ho iniziato a lavorare, a sperimentare praticamente come funzionassero determinate attività e mi sono reso conto che tutto quello che avevo letto, tutto quello che avevo studiato, era solo marginalmente rilevante. E cioè che paradossalmente il miglior modo per migliorare nella vita è vivere. Il concetto chiave è questo, è che il nostro ecosistema ci fa credere che l'unico modo per crescere personalmente sia guardare video di crescita personale, comprare libri di crescita personale e seguire profili di crescita personale. È come se noi fossimo un cavaliere nel Medioevo che passa la propria vita nel castello ad affilare la propria spada e a perfezionare il proprio equipaggiamento quando poi fuori dalle mura c'è una guerra. Cioè tu puoi avere anche la spada più affilata, ma se poi ti trovi nel bel mezzo di una guerra, se non ci sei mai stato, non sai cosa fartene della spada. La preparazione è sicuramente importante, sono d'accordo, ma l'esecuzione, sapere eseguire, è più importante. Perché magari abbiamo passato anni ad affilare una spada, ma quello che ci serve fuori dalle mura è un arco. E se non viviamo, se non sperimentiamo, non possiamo mai saperlo che serve un arco. Il principio di questo ragionamento è che il sistema in cui viviamo, il nostro sistema di istruzione, che prima o poi avrà un video dedicato, e ve lo giuro, e i social che come ho detto prima secondo me sono tra i primi colpevoli, per ovvie ragioni economiche ci hanno indotto a pensare che non saremo mai pronti per fare qualcosa. O che abbiamo bisogno di una super preparazione per affrontare non si sa quale sfida insormontabile. Togliendo così sempre più spazio all'azione, alla pratica, all'iniziativa, e rendendoci di fatto molto più insicuri di quanto dovremmo essere. Io l'ho provato sulla mia pelle, e per questo voglio condividere con voi tre spunti, tre riflessioni, che mi hanno aiutato tantissimo a dare un taglio più pratico alla mia vita. La prima riflessione è che quando ti senti pronto per fare qualcosa vuol dire che sei in ritardo. La seconda è non perdere troppo tempo ad analizzare, ma agisci. E la terza è non sottovalutare le altre persone. Riflettete su questi tre spunti e sul significato che possano avere per voi, perché ho deciso di dedicare ad ognuno di questi tre un contenuto separato. Ora non so se tramite un reel su Instagram o tramite video, però sono sicuramente tre argomenti che svilupperò, perché veramente per me hanno fatto la differenza. Come sempre vi invito a supportarmi nella condivisione di questi contenuti, fate girare i miei video tra le persone che possono averne bisogno. Ricordate come sempre di lasciare un'iscrizione, un mi piace, un commento per supportare questo canale. Tra l'altro siamo in rotta per i 5.000 e sapete cosa succederà quando raggiungeremo i 5.000 iscritti. Per il video di oggi è tutto, grazie per avermi ascoltato e alla prossima!